Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre al Real Collegio di Lucca, torna a Lubec, la manifestazione dedicata a cultura e innovazione organizzata da Promo PA Fondazione. Giunta quest'anno alla diciottesima edizione, Lucca Beni Culturali metterà al centro il tema dell'innovazione, dei processi, dei prodotti, delle tecnologie e della società, oltre ad approfondire il ruolo della cultura come motore della transizione anche negli ambiti e nelle misure previste dal PNRR. In gran parte si parlerà di questo, cioè delle metodologie di progetto, delle azioni che si devono fare, dei passi da compiere, perché la cultura diventi poi un servizio contemporaneo come quello che deve essere, cioè aperta, accessibile e anche innovativa dal punto di vista digitale. Tantissimo si parlerà di digitale, di immersività. Due giorni intensi di appuntamenti, tutti gratuiti, che vedranno direttori dei principali musei d'Italia e del mondo, economisti, scrittori, filosofi, artisti, amministratori, dirigenti, operatori ed esperti del settore, confrontarsi in quello che da 18 anni a questa parte è l'appuntamento cardine a livello nazionale del dibattito tra pubblica amministrazione, impresa e terzo settore. L'Ubec è diventata maggiorenne, quindi possiamo dire che questo bambino è cresciuto, è cresciuto bene, sta avendo buoni risultati e questi risultati saranno sempre migliori negli anni prossimi. L'Ubec è una vetrina sostanzialmente, è una vetrina di tutte le novità che ci sono nella fruizione, nella valorizzazione del patrimonio culturale, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista tecnologico.